Il premier Conte All'incontro con Conte non era presente solo il sindaco Coppola ma anche l'ex vice sindaco di Agropoli, la dottoressa Elvira Serra, in rappresentanza di tanti cittadini che hanno a cuore le sorti del nosocomio agropolese. La dottoressa Serra alla fine del convegno è riuscita a consegnare al premier una lettera in cui scrive dei problemi riscontrati dopo la chiusura dell'ospedale civile agropolese, delle gravi carenze sanitarie che il territorio si trova ad affrontare e delle tante morti causate dalla mancanza di un pronto soccorso attivo. Ora parleranno anche di Agropoli, scrive la Serra nel post su Facebook, dieci le proposte di vari sindaci lette dal senatore Castiello e ripetute dal premier. I treni ad alta velocità devono fermarsi non a Salerno ma a Battipaia, bisogna rafforzare le infrastrutture altrimenti non c'è sviluppo, le strade sono pessime, serve l'aeroporto. Io ascolto tutto, continua la Serra, un pochino mi sento dispiaciuta, la nostra Agropoli esiste. Parlano di Cilento ma noi, 23.000 abitanti, non ci siamo. Alla fine, nel convegno con Conte, di Agropoli non se n'è parlato, ma la dottoressa Serra riesce comunque a non far dimenticare della cittadina agropolese. Finisce il convegno, il premier si avvia sulla scaletta dell'uscita, io ho uno scatto quasi felino, smacco le guardie del corpo e mi avvicino al premier. Gli dico, devo consegnarle una lettera di tanti cittadini di Agropoli che si sentono dimenticati da tutti. Lei conosce bene Agropoli, ci viene spesso, le hanno detto che il nostro ospedale non ha un pronto soccorso, urgenza, emergenza. Le hanno detto che senza servizi ed infrastrutture non si fa turismo. Lo sa quanti nostri cittadini sono morti mentre venivano trasferiti con le autoambulanze? Lo raggiungo, il suo sguardo è gentile, mi risponde, certo che conosco Agropoli. Gli consegno una lettera con la busta di colore giallo, come lo stop. Nonostante che la dottoressa Elvira Serra non rappresenti alcuna carica istituzionale per la città di Agropoli, è riuscita nella sua piccola missione di non far restare nel dimenticatoio una città che ha bisogno di aiuto, per via delle troppe situazioni di disagio, a partire dall'ospedale. La speranza non muore mai. Sì, mi sento fiera, conclude la Serra. Ho fatto un gesto piccolo ma importante. Il premier, ora almeno è informato, sa che Agropoli ha un ospedale chiuso.